In 21 anni di attività giornalistica ho girato in lungo e largo la città dal centro alle più remote periferie e ho voluto sempre dare spazio e voce ai cittadini perché i cittadini sono i protagonisti, sono i padroni della città. Questo voglio fare anche da sindaco, per me non sarà certamente una novità. Il sindaco ha un datore di lavoro, il datore di lavoro si chiama cittadino, sono quei cittadini che pagano le tasse, che pretendono servizi. Siamo con un abitante di Talzano, siamo in via San Francesco, il signor Cosimo Coppola, il quale ci ha fermato e ci dice giustamente Ma i lavori che vengono eseguiti a Taranto dalle ditte per conto del comune, ma questi lavori come vengono realizzati? Come mai non ci sono controlli? Cioè la ditta fa il lavoro, se ne va, fa il lavoro con i piedi, passatemi l'espressione, tanto nessuno li controlla e come si suol dire chi si è visto si è visto. I lavori, praticamente quelli che stanno sul comune, o meglio dire l'assessore dei lavori pubblici, è possibile che non vanno a controllare? Una volta finito, insomma, da poter verificare ciò che è stato fatto? Eh, verificare, almeno si è fatto questa strada, poi qua non ne parliamo quanto riguarda questa zona qua, quando piove arriva più di mezzo metro di acqua, ogni volta c'è una tragedia, le macchine che si fermano, è una cosa da insopportabile. Gli ho spiegato che praticamente i lavori bisogna farli all'entrata di Taranto, di Taranto, versare il tabacchino, c'è una strada che porta, allora ho detto io, apparecchi, cercate di mettere un tubo più grande, in modo insomma da, come la questione dell'imbuto, che tu per esempio, qua si crea tanta di quell'acqua che non ce la fa, non ce la fa. Ecco, ma la cosa grave è che giustamente queste cose, questi interventi strutturali andrebbero realizzati dagli uffici tecnici, ci sono, mi auguro, dico fior, e credo che siano così, fior di ingegneri, fior di geometri, fior di architetti, beh, se questi sono i risultati cosa devo pensare? Eh, praticamente, io gliel'ho spiegato parecchie volte. Signore, non è un tecnico, ma chi è un tecnico dovrebbe saperlo, no? Io gliel'ho spiegato, che praticamente dove sta vicino al tabaccaio, l'anzo, ma i tubi bisogna farli più grandi, in modo che l'acqua di qua se ne va. E la questione dell'imbuto, io parto sempre dalla questione dell'imbuto, va bene? Ecco, questo è un, come dire, proprio degli esempi pratici, proprio concreti, che vi mostrano, vi fanno capire effettivamente come si dovrebbe intervenire. Ma l'aspetto, ora al di là dei fatti specifici di cui sta parlando l'amico qui presente, c'è il problema grosso, 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 è che le ditte fanno i lavori, vengono pagate e se ne vanno. E' assurdo, perché quei lavori sono pagati da noi cittadini, i lavori che fa eseguire il comune di Taranto sono pagati dalle nostre tasche. Almeno, ecco perché, insisto sempre di qua, quando piove è un disastro, è una cosa spaventosa, proprio una cosa, insomma, le persone, le macchine, parecchie volte si fermano due, tre macchine qua. E c'è da prendersi paura, insomma, è una cosa spaventosa, insomma, dici, ma qua, apro la macchina e si allaga tutta la macchina. Bene, vedete, questi sono dei servizi che facciamo proprio per cercare di farvi capire come vive la gente. Presidente, noi non vogliamo una, io non voglio realizzare una politica di annunci, di favole. Melucci dice, continua a dire, ho seminato la rinascita, ho trasformato Taranto. Ma quale rinascita? Questo è solo fumo gettato in faccia ai cittadini. E questo succede perché tu, caro Melucci, non hai mai girato la città, non conosci le esigenze. Se tu avessi girato, avresti visto gli scempi che ci sono e avresti potuto porre rimedio, ma soprattutto avresti potuto confrontarti con i cittadini. I cittadini non ti hanno mai visto né in centro né nelle periferie. Tu ignori completamente i problemi e solo ora che siamo in campagna elettorale, misteriosamente tu, Melucci, sei ricomparso. Ma oltre a te, caro Melucci, bisogna anche dire le stesse cose al signor Walter Musillo. Walter Musillo ha amministrato con Melucci per quattro anni e mezzo. Walter Musillo aveva i suoi uomini in giunta e nelle società partecipate. È corresponsabile di questo disastro amministrativo. Troppo facile per Walter Musillo ora lavarsi nelle mani e far finta di non sapere nulla. Ecco, la politica dell'ascolto a contatto con i cittadini. Lo ripeto, l'ho fatto per 21 anni da giornalista, voglio farlo da sindaco. Se l'elettorato mi concederà la sua fiducia.